buonasera amici di youtube è arrivato quel momento l'abbiamo inseguito l'abbiamo voluto ve lo siete palesemente comprato è il video dell'anno è il momento in cui snoccioliamo la difesa su 2k e non l'ha fatto mai nessuno perché probabilmente nessuno lo sa fare neanche io probabilmente ma sicuramente le competenze per quanto mi riguarda almeno a dire quello bisogna fare poi chi lo fa chi lo fa meglio chi lo farà peggio è semplicemente bravura del player però almeno le prime i primi tip le prime i primi consigli base e anche non troppo base penso che dovranno essere due video andremo a centrare tre cose molto importanti e me lo sono segnato qui la difesa un ball of ball un discorso generale su questa cosa non mi dilungherò tanto perché comunque è un discorso stupido probabilmente quindi lo affronteremo in maniera abbastanza credibile poi parleremo della scelta dei giocatori quindi che quali giocatori potrebbero influenzare nel bene o nel male quindi andare analizzare alcuni tipi di giocatori perché si usano rispetto ad altri se possono o no valorizzare i vostri sforzi difensivi e poi parleremo nella parte finale e andremo ad analizzare una partita che ho giocato oggi proprio oggi ne volevo far vedere un'altra ma questa è ancora meglio io contro un giocatore molto molto bravo in attacco almeno su next gen che per molti di voi sarebbe diventata una partita ingiocabile che invece in questo caso io l'ho triardata malissimo primo punto raga non mi vogliono troppo a dilungare un ball of ball raga chi dice che devi indifendere un ball per me nel stesso gioco non ci ha capito un cazzo quindi ci giro poco intorno raga non esiste una difesa un ball of ball esiste una difesa poi se il tuo tipo di difesa è buona contro il tuo avversario significa che due cose il tuo avversario non si attacca quindi se tu stai fermo la difesa off ball fermo con un giocatore non è una difesa quindi se tu quel giocatore lì ti riesce a bloccare così è perché tu non sei capace in attacco quindi via andare a vedere video dell'attacco perché se tu non riesci a neanche a andare via neanche una volta la cpu è perché tu non sei in grado di attaccare non il tuo avversario è forte ma sei tu il problema prima ipotesi seconda ipotesi semplicemente il gameplay è in marcia e quindi non riesci a non prendi tassi ma quello non dipende niente dalle skill del giocatore quindi è semplicemente un caso in quella partita però se si succede tutte le partite che tu non riesci a battere la cpu è perché il tuo attacco è molto molto meno potente della difesa del tuo avversario che non sta facendo niente significa che se ti trovi con uno che sa difendere bene quel tizio non gli fa neanche un punto quindi il primo ostacolo è battere il bot che sta in angolo e non fa niente cioè sta fermo in angolo e non fa nulla se tu non riesci a battere quel tipo di difesa non è la cpu non è la tua che ti sta rimando conto ma tu semplicemente non hai le mani non stai attaccando bene quindi via vedere la difesa dell'attacco perché non c'entro niente in questa storia lì quindi chiudiamo il discorso su long ball of ball io parlerò più di risultato difensivo cioè l'efficacia della tua difesa contro il tuo avversario o l'avversario medio o medio alto quello che è chiaramente non è che ti metti io adesso vado a sfidare tai di bo e li difendo no chiaramente no ci sono dei livelli come in ogni cosa e a capire qual è il tuo è la lucidità poi che porterai in game non riuscite a superare questo step mentale inutile che guardate sto video passate al prossimo e buonasera mi dispiace per voi non è il vostro video unlucky come strutturare una squadra che abbia un'efficacia in difesa cercare di avere meno punti deboli per quanto riguarda gli switch perché è un gioco che va molto di pick and roll quest'anno quindi intanto c'entrare il meta del gioco quindi il meta del gioco su next gen in parte anche su current anche se si tirano un po' più dritti è proprio il pick and roll come si dice in game alla hendry kirilenko alla yux alla davis che è un lungo che può cambiare su tutti e una serie di giocatori che andremo a elencare adesso andando sul sito che ti possono aiutare solo con la loro presenza a diciamo limare o comunque ad attaccare l'attacco avversario e renderti più e meno vulnerabile alle cose meta del gioco ossia in questo caso le cose meta sono il pick and roll con il cosiddetto tiro dietro al blocco e soprattutto sono la cosiddetta mesh sotto canestro ossia ti portano sotto e essendoci poca difesa interna cioè quasi inesistente su next gen prendere i punti costantemente sotto canestro cosa che si deve evitare in tutti i modi quella situazione lì più la eviti e più avrai vantaggi in game quindi questo è il discorso poi munirsi di migliori difensori del gioco comunque che un andrighi rilenco in una squadra è un must have se volete comunque avere un buon risultato in 5v5 perché è un giocatore così molto molto forte perché ha tutti i 90 almeno in difesa quindi è difficile da saltare è una cpu molto potente e quindi è molto molto complicato guardate i cartellini intercettore off che anche se l'hanno un po' nerfato resta comunque un must have ma soprattutto intimidatore c'è un artist che su next gen è rottissimo perché non si riesce tanto a schiacciare è qualcosa di imbarazzante chi rilenco quindi secondo me un yux che ha caratteristiche peculiari che non tutti hanno perché non uso lillard perché non uso per esempio io perché a me mi piace un giocatore di questo tipo peggiato al punto giusto che gli manca handles lo rende anche molto forte anche in attacco gli metti sniper beh sapete i badge non sto qui a rifare lo stesso video un giocatore di questo tipo che ha 84 di interno in playmaker comunque è un vantaggio ti permette comunque non ti dico di switchare sui centri ma comunque di avere un buon un buon risultato dal punto di vista difensivo quindi straconsiglio un yux e non un ben gordo non riempire le vostre linee up di giocatori che non difendono perché poi siete molto molto svantaggiati in attacco in difesa se non producete quello che vi aspettavate in attacco è palesemente un bot cosa che può anche essere un giocatore ad alto prezzo come Morant che probabilmente vi può portare comunque degli svantaggi notevoli in game anche lui non mi è sembrato molto consistente nonostante sia un opale sarà il body type che è molto magro viene spostato facilmente non mi è sembrato un grande giocatore è onestamente per il prezzo tra l'altro quindi perché poi durante l'anno io ho usato smart vi chiederete perché perché non è che sono matto ma semplicemente smart 80 di interna quindi la chiave prima chiave che posso dire avere più giocatori che non abbiano problemi di difesa interna già partendo dal play anche già la starter direziono i quintetti verso la difesa cioè questo è un quintetto che non costa niente però guardate quanta difesa cioè non c'è non hai punti deboli nonostante sia una sia una linea up neanche da 50k questa linea up non presenta punti deboli soprattutto in difesa quindi la prima cosa che vi posso consigliare è la scelta dei giocatori un'altra squadra da 50 un'altra squadra che non presenta debolezze neanche questa nonostante non sia la più costosa non abbia reward è una squadra che non presenta punti deboli a parte penni che non è secondo una debolezza Josh è un god sotto siete coperti lo vedete anche Miller è un giocatore con cui difende Bob Shura comunque il suo lo fa più vai a crescere con il budget più diventa una situazione ingestibile per quanto riguarda guardate qua ancora alzo ancora di più la difesa con Leona e Kirill in coda 3 Josh ha il campo aperto col Porz in attacco comunque ti aiuta anche la panca è stra stra forte fino ad arrivare alla squadra da un milione che praticamente perfetta non ha assolutamente punti deboli con questo lamelo ball che non palleggia un cazzo però è comunque un giocatore stra stra utile che vi può aiutare in game quindi questo è il primo consiglio che posso dare cercate di schierare carte che non abbiano pecche in difesa già nelle stats e nei cartellini quindi questo mi sembrava combinato qua allora intanto c'ho Granger quindi è giusto io levo da ricezione in angolo cioè Yao Ming lì si sono schiantati i due Yao Ming qua passaggio banale quindi non vado a un ball lo vedete cioè se il vostro avversario fa un passaggio banale andare a un ball non serve a niente tu li devi levare le ricezioni io non sono andato a un ball lo vedete sono lontano c'ho 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 Granger però vedo che vuole creare qualcosa di strano quindi sto in allerta perché quando Durant c'ha la palla bisogna stare sempre in allerta non si sa mai che può succedere quindi sto comunque lì su Orgnone infatti vedete vado subito su cerco una bump comunque sono aggressivo non sono passivo in difesa non sto in angolo capito vado su Siagam e provo una bump solo che lui è bravo e fa lo step back guardate sto momento epico provo una bump non ci riesco e guarda come vado a vuoto che bello che bellezza sto momento epico liscio però lo vedete siagam quanto è cattivo guardate come c'ha la faccia sulla palla il problema è che lui non gliela può passare perché devi finire l'animazione Payton adesso sto su Payton provo ad andare verso destra la mia idea era prendere Payton lanciargli Payton prendere Yao e levargli la ricezione su Lamelo era la mia idea in quel momento e infatti lo vedete cambio solo che mi dà lo switch su Siagam e quindi mi triggero lui non è riuscito a dargliela a Lamelo comunque lo vedete non gliela dà perché preferisce tenere palla con KD però c'era il passaggio di Lamelo non l'ha visto quindi io sono rimasto lì in mezzo non sa poco che fa a una certa gli tiro addosso gli ho tirato addosso Payton e ho detto vabbè vediamo che succede e alla fine la palla gli ha data quindi qua ci sono due metodi o andate su Siagam e li levate la ricezione però rischiate che uno bravo vi crabba i due bot no? perché se tu switchi su Siagam c'è il doppio bot che difende Kly e uno bravo che sa palleggiare in questo caso lui potrebbe tranquillamente crabbare la CPU mettersi in mezzo proprio tra Cazzi Russell e Yao si prende il mismatch expert da Yao e i blinders da Cazzi Russell vi fa verde quindi io non vado via rimango lì quindi resto lì col cazzo che mi levo in next gen regà qua è un momento è di difficoltà qua cioè non potete cercare quindi io rimango lì col cazzo che mi levo e infatti qua guarda che fa voleva tirare lo vedi se io non se io non andavo su Yao Ming questo è un momento importante se io non andavo su Yao Ming questo faceva verde questo faceva verde regà io ve lo dico se io non stavo lì su Yao questo era verde infatti che fa fa il bailout non se l'aspettava si aspettava magari che stavo come dici tu su Siagam invece qua è stata una lettura intelligente di rimanere su Yao Ming era giusto andare su Siagam perché era wide open però io ho detto questo se non me mo mi vuole grabà e infatti ci sono andato che è successo poi qua passaggio stupido e di nuovo a Yao Ming di nuovo e gli dà la nuova palla a Klai che palle fa così e poi gli faccio una bella difesa qua di testa intercettore questa è una bella difesa per esempio oh come wide open io non volevo io non volevo oh bazzi bravo rosso bel giocatore uno che si muove finalmente e levate grazie c'è una lag epica mica mica ragazzi vai sotto sotto dai gobi come on non so se ci devo palleggiare però non palleggiare sta palla bro in difesa vabbè intanto la mia buona difesa qua col Porsche L2 R2 L2 mollo tutto e li vado dal contest senza il salto e qua vabbè andate via Morant ci riesco pure io guardate qua che robetta squad questa è tua squad questa è tua squad squad la mia buona la mia buona la mia buona la mia buona